Buon 25 aprile, aderisco volentieri all'iniziativa Raccontiamo la resistenza dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri perché ce n'è bisogno. Ce lo ricordiamo dall'anno scorso quando addirittura un ministro, il ministro dell'interno dell'epoca, sembra passato tanto tempo, dichiarava il suo assoluto disinteresse per la festa nazionale istituita con regio decreto, non c'era ancora la Repubblica, nel 1946, un decreto firmato Alcide De Gasperi che sanciva come questa data, 25 aprile, dovesse restare a simbolo del passaggio dalla dittatura alla democrazia, ebbene dichiarava di non volervi aderire, di non volervi partecipare in quanto si trattava di un anacronistico derby tra fascisti e comunisti. Questo senso comune si è diffuso, ramificato, autorizzato esaltazioni del fascismo, nostalgie, riutilizzo di simboli addirittura nazisti come le svastiche a modi di minaccia nei confronti delle minoranze che si volevano ottenere sotto scacco, sotto minacce, stigmatizzare. E allora è in tutto questo ricordare il passaggio storico fondamentale che sta alla base della nostra Repubblica e della sua Costituzione che è antifascista, implica appunto la memoria, implica la capacità di cogliere i segnali, gli avvertimenti che ci giungono ancora anche dai diretti testimoni di quel tempo. L'anno che è trascorso, dal 25 aprile del derby per intenderci, è stato molto impegnativo per me e Laura Gnocchi che insieme abbiamo portato avanti la realizzazione di centinaia di video interviste ai protagonisti che sono ancora fra noi, partigiane e partigiani d'Italia. Ne abbiamo raccolte all'incirca 420, lo stato di avanzamento dei lavori di questa ricerca che con la collaborazione dell'Ampia ha coinvolto molti volontari per raccogliere, per entrare nelle case di questi che erano giovanissimi all'epoca e che ci rappresentano oggi la memoria della loro resistenza, l'interpretazione che sono in grado di dare 75 anni dopo, noi crediamo che sia un contributo interessante perché sono in qualche modo dei guastafeste, anche mi viene da dire come dei rabdomanti, sanno cogliere i segnali e dentro al nazionalismo, al militarismo, dentro al razzismo e al macismo misogeno che ha accompagnato il culto dell'uomo forte nella politica contemporanea, questi nostri vecchi testimoni hanno riconosciuto aria della loro gioventù. Non si tratta naturalmente di dire che torna quel fascismo, ma si tratta di ricordare che elementi infestanti di autoritarismo sono sempre lì a minacciare una democrazia che non può essere data per scontata una volta per tutte, ma che è sempre una faticosa conquista. Per questo anche nelle condizioni eccezionali in cui ci troviamo oggi a maggior ragione sentiamo il bisogno di spirito di resistenza, per questo il progetto Noi Partigiani è il nostro saluto e il nostro contributo all'Istituto Parri e alla sua volontà di raccontare la resistenza.